Il centro Lilium Benessere premia l'amicizia e presenta le nuove promozioni autunnali con gli appuntamenti porte aperte. L'esordio è stato affidato il 20 ottobre scorso alla presentazione di quattro diversi e rivoluzionari metodi di epilazione con le nuove promozioni. L'azienda locale, leader del settore, propone i metodi pasta di zucchero, luce pulsata, cera al nim e laser a diodo. Luce pulsata e laser a diodo rappresentano la nuova frontiera della epilazione progressivamente permanente. In particolare la luce pulsata è un sistema in uso regolare da Lilium Benessere da oltre 11 anni. Poi nel 2015 è arrivato anche il nuovo sistema ancora più efficace e veloce. La pasta di zucchero è un trattamento completamente naturale, meno dolorosa della cera tradizionale e che rispetta la temperatura corporea. La cera al nim infine è un olio ottenuto da una pianta che ha proprietà antisettiche e antifungine. Sbocciano così da Lilium Benessere le nuove promozioni autunnali che premiano l'amicizia. Infatti chi acquisterà almeno 5 sedute di epilazione o pacchetti godrà di sconti che vanno dal 10 al 50%. Chi parteciperà inoltre all'iniziativa concorrerà all'estrazione finale di ulteriori premi in palio. Le promozioni sono valide fino al 30 novembre prossimo. I prossimi appuntamenti porte aperte da Lilium Benessere per le prove gratuite sono il 28 ottobre e il 24 novembre. Prenota anche tu il tuo appuntamento con il benessere e la bellezza.